buongiorno ragazzi che è successo sono già cadute due carte si sono già cadute due carte prendiamo l'ultima ovviamente prendiamo l'ultima carta e intanto io come sempre spero che voi stiate guardando questa lettura mentre prendete il vostro caffè o mentre vi preparate ad uscire di casa in modo tale da avere le idee chiare su quello che ci aspetta prendo oltre alle tre carte che sono già cadute abbiamo un appeso abbiamo un asso di bastoni e un nove di denari bene io direi che cominciamo bene ma prendiamo anche una carta del tarocco indovino poi prendiamo una carta del tarocco indovino numero due ecco se andate a comprare il tarocco indovino esistono diverse versioni sappiatelo sappiatelo è una carta del nostro oracolo lunare dunque notizie persona nociva e ingannatrice o inaffidabile e individualità sembra che la nostra saga con con il tizio o con la tizia continua cioè allora vi spiego anche una cosa queste carte ragazzi il tarocco indovino è perfetto per fare cartomanzia piuttosto che tarologia io in questi giorni voglio proprio dare un'impronta più cartomantica ma in realtà se sapevo che uscivano queste robe non so se l'avrei comunque scelto di farlo però ecco chi di voi è più interessato alla cartomanzia può benissimo usare questo genere di carte chi invece è più proiettato verso la tarologia usate magari un normalissimo mazzo di tarocchi universali rider weight oppure usate i tarocchi di parsiglia o qualunque altra cosa vi piaccia comunque fatto sta che la saga con il deficiente o la deficiente non è ancora finita io rimango allibita per la resilienza che possono avere certe persone nel comportarsi male cioè sembra che non finiscano mai di comportarsi male sembra che sia la loro missione di vita missione nella vita rompere le scatole al mondo dare fastidio agli altri ma perché cioè poi tra l'altro queste persone non si rendono conto che si attirano l'odio le nemicizie le energie negative cioè questi dovrebbero stare immersi in un bagno in un bagno purificatore cioè per rimanere puliti considerate una cosa quando una persona litiga con tutti cerca di fare del male agli altri cerca di creare danni e casini nella vita degli altri si attira addosso le peggiori energie se si tratta soprattutto di persone che non si puliscono mai che non fanno mai una pulizia energetica che non meditano sono pieni di schifezze sono veramente pieni cioè queste persone per rimanere pulite e per evitare i problemi causati da se stessi e dalle ripercussioni delle loro azioni e dei loro pensieri dovrebbero stare immersi nella vasca da bagno con le foglie di rosmarino con le foglie di di alloro a bruciare la salvia bianca dentro il bagno per pulire nel frattempo pure l'atmosfera con i sacoli il sale il sale marino per per fare proprio l'acqua santa l'acqua benedetta cioè non davvero queste persone non si rendono conto chissà chi è la mia ma non mi interessa neanche saperlo cioè ecco io sono una di quelli che se c'è qualcuno che ce l'ha con me o cerca di farmi del male non lo voglio neanche sapere perché proprio non voglio dare energia ma proprio show ma proprio show ecco fatelo anche voi ragazzi parola d'ordine oggi è show non diamo peso allora tra l'altro ecco potrebbero arrivare notizie su questa persona su questo vostro amico o amica sul vostro migliore amico la vostra migliore amica potrebbero arrivare notizie o da questa persona o su questa persona o notizie in qualche modo legate a questa persona quello che vi vuole fare che poi è proprio bugiarda cioè proprio veramente una persona bugiarda inaffidabile almeno dicesse la verità ma spara pure una marea di balle ognuno ha il suo scopo nella vita che vogliamo fare quello che la gente non si rende un'altra delle cose che la gente non si rende conto di quello che rischia a livello animico si rischia di perderla l'anima così facendo ma non voglio scendere nei dettagli di questo argomento sono temi di altra sede però però la cosa positiva di tutto questo è che noi nella nostra individualità nel nostro nella nostra centratura siamo molto forti cioè anche ricevendo notizie che possono arrivare verbalmente fisicamente magari vediamo nei social qualcosa che questa persona ha postato contro di noi o magari un amico o un'amica ci avvisa o magari questa persona direttamente ci fa una telefonata distruttiva qualunque cosa accada anche energeticamente potrebbe arrivare ecco per esempio potrebbe non accadere nulla di fisico e di reale nel sul piano fisico ma potrebbe chiaramente arrivarci una botta energetica e quelli di voi più sensibili lo sentirebbero subito però la cosa positiva è che nel nostro essere centrati nella nostra capacità di concentrarci sulla nostra individualità non ci facciamo toccare non ci facciamo assolutamente toccare infatti le tre carte successive ci informano proprio di quello che accade e cioè nulla non accade nulla il la carta dell'appeso e la carta di chi sta lì semplicemente aspetta che le cose cambino da sole perché ritiene che non valga la pena agire reagire rispondere o forse perché non sa cosa fare ecco qualcuno magari non reagisce perché non sa cosa fare e in effetti in questi casi la cosa migliore è proprio non fare nulla la seconda carta è un asso di bastoni l'asso di bastoni ci parla di un'azione che noi compiamo ma non relativamente alla situazione in questione questa è un'azione che noi compiamo al di là di quello che sta succedendo la compiamo per noi stessi per la nostra vita per la nostra crescita per focalizzarsi per focalizzarci su quello che è nostro perché anche il nove di denari parla di individualità cioè noi stiamo talmente tanto bene con noi stessi in questo momento in questo periodo che se compiamo delle azioni lo facciamo per noi non lo facciamo per gli altri non lo facciamo perché sentiamo il bisogno di interagire con non ne sentiamo il bisogno quindi molto molto bello io dico come modo di reagire vediamo adesso invece che cosa accade più nello specifico al nostro sacro maschile al nostro sacro femminile carte che possono riferirsi per qualcuno alle nostre relazioni amorose sentimentali mentre per qualcun altro possono semplicemente parlare di noi con persone che hanno una certa importanza una certa rilevanza nella nostra vita e con cui stiamo interagendo e ovviamente sono carte che cioè sono energie che non significano uomo o donna il sacro maschile così come il sacro femminile può essere canalizzato indipendentemente dalla sessualità o dal sesso per il maschile abbiamo un carro un sette di spade e la regina di coppe quindi il sette di spade che ieri era nella parte del sacro femminile adesso passa al sacro maschile si stanno un po tirando la palla a vicenda qua c'è un maschile pronto ad andare avanti un maschile pronto finalmente a lasciare a lasciare perdere quello che lo ha turbato fino ad ora anzi c'è un maschile che sta facendo dei piani e dei programmi piani progetti per il suo futuro per il modo in cui interagirà da adesso in poi nell'ambito delle relazioni e che sceglie anche sceglie secondo me anche perché ha visto l'atteggiamento del femminile dell'ultimo periodo sceglie proprio di evitare di affrontare determinati argomenti sembra che non sia un periodo molto favorevole per le comunicazioni per il dialogo perché con questa carta del sette di spade che continua ad apparire ogni giorno nell'ambito proprio delle comunicazioni c'è qualcosa che non va infine con la regina di coppe questo è anche un maschile comunque che rimane in attesa di ricevere qualcosa ma lo fa molto pazientemente senza nessuna fretta senza nessuna aspettativa sa che ciò che gli spetta o ciò che deve arrivare prima o poi arriverà ma nel frattempo si fa la sua strada va avanti appunto per i suoi progetti e per i suoi programmi nel frattempo il femminile interessante è caduto un sette di bastoni rovesciato un asso di spade e un dieci di bastoni quindi nel frattempo il femminile ha capito che finalmente può togliere un po di muri che erano stati tirati su può togliere un po di barriere si può rilassare questo non significa che la situazione si sia del tutto appianata ma è arrivato il momento di parlare e di dire qualcosa in più quindi se fino a ieri era il femminile che non voleva affrontare certi argomenti adesso invece abbiamo un femminile che sceglie di affrontare questi argomenti mentre invece è il maschile che scappa da questi argomenti si sono molto invertiti i ruoli quindi un femminile che butta giù i muri del silenzio che sceglie con l'asso di spade sceglie di sguainare verbalmente la sua spada e di dire la sua e di esprimersi in modo chiaro molto chiaro come risultato abbiamo un dieci di bastoni perché perché la conversazione potrebbe risultare un po pesante potrebbe non essere semplice farla ma diventa necessario è diventato necessario quindi che sia semplice che non sia semplice bisogna farlo bisogna farlo ci sono delle cose che sono state tenute dentro per troppo tempo queste cose stavano stavano cristallizzando stavano un po creando una roba che dava fastidio e quando si creano queste robe dentro che non vengono espresse e che danno fastidio bisogna riconoscere quando invece arriva il momento di parlarne non si possono lasciare dentro per troppo tempo rischiano di causare dei danni enormi perché rischiano di rovinare le relazioni rischiano di causare allontanamenti che potrebbero essere evitati rischiano di perché no sul lungo termine rischiano anche di portare a problematiche di vario tipo a livello proprio delle nostre condizioni psicofisiche quindi no è arrivato il momento di buttare fuori per quanto possa essere poco semplice parlare però va bene nel frattempo il maschile capisce però è una forma di comprensione che porta un po anche a una fuga non significa che il maschile scappa via scompare significa però fuga da fuga dal confronto fuga dall'essere completamente chiari al centro al cento per cento e diretti a questo punto vediamo un po le ultime due carte del consiglio di oggi vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare per vivere al meglio queste energie quindi prendiamo le ultime due carte nel frattempo ragazzi chi vuole una sessione privata perché sente il bisogno di parlare sente il bisogno di chiarire la sua situazione personale potete presentare direttamente dal sito internet oppure scrivere un email o un messaggio whatsapp ai contatti che trovate giù nel box in descrizione allora le due carte finali sono il 4 di spade e l'8 di bastoni queste sono carte che ci dicono se vogliamo parlare cerchiamo di farlo con calma cerchiamo di farlo con la serenità nel cuore perché l'efficacia delle nostre parole dipenderà dallo stato d'animo con cui le tiriamo fuori quindi alterarsi non servirebbe a nulla semmai porterebbe a una fuga ancora più netta più marcata ma se noi riusciamo in effetti a parlare in modo sereno come un 4 di spade ciò che ne verrà fuori sarà un 8 di bastoni e cioè una conversazione chiara limpida magari perché no un po accesa apparentemente perché è inevitabile questo sembra inevitabile che accada però comunque non non avremo aspettative non ci saranno ripercussioni negative e sapremo anche accogliere e accettare tutto quello che arriverà dall'altra parte quindi le risposte qualunque tipo di risposta siano comunque non ci creeranno problemi non ci disturberanno anche perché magari partiamo tra virgolette un po prevenuti perché ci aspettiamo ci aspettiamo certe cose e con questo ragazzi io spero di esservi stata utile vi mando un abbraccio grandissimo vi auguro una splendida giornata e ci vediamo a domani ciao ciao